Moretti, che cosa si è messo in testa? Di inquinare le prove? Non mi permetterei mai. Le hanno segnato il caso? No, ma una volta era mio. Omicidi come questo non sono casuali, sono premeditati. Ma è un assassino o sono due? E se è uno solo, che diavolo è? Ecco cosa succede a dare la caccia ai fantasmi. Non ai fantasmi, alla verità. Ecco arriva il nuovo giorno, il fattore si leva di torno, le sue armi può posare e finalmente può dormire.